La nostra impresa è un'impresa di famiglia aperta dal 1855. Da tutto quello che serve per il vino, quindi i tappi, le bottiglie, tutta l'attrezzatura, abbiamo aggiunto nel tempo altre cose, bottiglie di tipo diverso, vasi, articoli per la birra, per avvicinarci ai giovani, e per l'olio. Nel tempo il lavoro è molto cambiato, ci si è dovuti adeguare a quelle che sono le richieste del mercato. Il sito internet fatto con Godeddy di avvicinarci a un pubblico maggiore, ai giovani, perché oramai chi cerca un articolo qualsiasi fa la domanda in internet. Mi hanno consigliato di scegliere Godeddy perché dà un'assistenza e soprattutto un'assistenza diretta, telefonica, non con il ticket. E poi devo dire che il vostro servizio clienti sono tutti molto cortesi, per la mia esperienza posso dire molto professionali, mi hanno sempre risolto i problemi.